si bell'e a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono zada gamer e oggi ragazzi sono qui con un nuovo deathmatch parkour cioè è la prima volta che porto un deathmatch parkour sul mio canale quindi partiamo subito allora di qua penso che a quella diretta ma che cavolo vabbè cose epiche quello che è lag no io sto lontano dai lagoni no uh che culo allora così sali qua no guarda là il nemico allora ora mettiamoci in furtivo andiamo qua perfetto raga ora andiamo tutto di un colpo uucchio raga io questo parkour non l'ho mai fatto quindi non so veramente come si fa no ma questo è sfiga della merda proprio cioè io vado di là per riuscire a salire sopra la cabina e cosa faccio casco giù ma a dettagli raga ma a dettagli raga il mio personaggio l'ho straccellato ma a dettagli allora ora andiamo no vabbè ma questa è una pigliata per il culo allora raga dopo varie prese per il culo del mio personaggio sono riuscito di nuovo a rialivare là e le mie panchine non mi hanno fottuto per una buona volta raga no 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 questo percorso è già raga non ci credo così ok allora credo che era difficile allora andiamo qui sali sali giro perfetto vai qui perfetto oh oh no ma questa è una pigliata per il culo veramente no raga allora proviamo a rincominciare tutto vai vai salta perfetto vai vabbè ero caduto oh il nostro compagno ha già preso le armi buona 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 andiamo qua furtiva andiamo qui qui poi qui raga vi dico solo che stiamo aumentando sempre di più di iscritti io vi ringrazio tantissimo ora siamo a 75 iscritti veramente grazie mille raga penso che appena arriverò a 100 iscritti e farò un contest per vincere account moddato però no raga basta io non ci tento più a fare sto cavolo di parkour de merda proprio allora siamo arrivati qua spero di non sbagliare perché se sbaglio qua raga ecco bravo bravo personaggio allora vai qua salta qui ucchio vai qui sali qui sali qui sali qui no raga questo percorso sento già cosa fa quello vai qui vai qui non ci credo raga e succhiamo le palle però sta finito che le merda allora mi voleva bloccare la strada guardate raga cosa gli faccio ora guardate no epico epico no raga è troppo epico no raga non so se l'ho visto non so se l'avete visto no raga è troppo epica è troppo epica è troppo epica dai killiamo un po' di gente abbiamo quattro minuti di deathmatch per killare un po' oh e cosa volevi fare in due guarda 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 io mi diverto un po' col lancio granate dai allora vai 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 Torniamo indietro Allora raga Siamo tornati sulla piattaforma Perché la lampo La rottura di cazzi Cioè nel senso che La rottura di palle Sare di là È più bello stare qua Insieme agli amici Ok Cosa volevi fare Cosa volevi fare Te ho visto Cioè raga Ho buttato giù al mio amico È una roba troppo epica Eh Cosa volevi fare Cosa volevi fare Cosa volevi fare Cosa volevi fare tu Raga Vi dirò Che Per chi ha visto le mie stunt Che ho fatto Sul mio Cioè che ho messo nel mio canale Che ho fatto Col mio personaggio Su giglia online Per chi Segue a pork mod Presto uscirà Uscirà Tipo un Fail Fail And win Non so come si chiamano Però una roba del genere È stunt E E E Mi ha accettato Delle clip Quindi ragazzi Per chi Per chi vorrebbe andare a vedere Il video che uscirà Presto da pork mod Può andare E Metterò il link Del suo canale In descrizione Ora Continuiamo Quindi Appena Uscirà Ragazzi Lo guarderò pure io il video Perché Lui non mi ha detto Che clip Da bastardo Proprio non mi ha detto Le clip Che mi accettava E Quindi Io sono curioso Di quale mi ha accettato Cioè perché Gli ero mandato Veramente tantissime Come avete visto Nel canale Ne ho portato Tantissime Guardate Questo bastardo Che mi uccide Ok raga Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciatemi un like Iscrivetevi al canale Per non perdere Il prossimo video Lasciate ancora un bel commento E da Zgamer È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Grazie a tutti